buongiorno non ho ancora commentato il decreto rilancio è un documento molto complesso adesso però non sto non torno sull'argomento dell'eccesso di burocrazia sulla lunghezza di questo documento volevo commentare più la sostanza il documento è quello che ho chiamato ancora un documento essenzialmente difensivo non proprio di rilancio la maggior parte delle misure sono del tipo tu hai perso 100 lo stato ti ridà 50 60 70 comunque non rimane una perdita quindi in termini di capacità di spesa per le famiglie e per le imprese ci sarà una riduzione di capacità di spesa anche se non tanto forte quanto in assenza di questo provvedimento però per un per un rilancio ci vuole qualcos'altro per un rilancio occorrono misure che esogenamente facciano aumentare la domanda ce ne sono alcune di queste c'è il bonus c'è l'eco bonus c'è ci sono le spese l'aumento per le spese per la sanità ci sono le spese per la pubblica istruzione però nel complesso di 55 miliardi prevalgono le misure difensive quali sono le implicazioni l'implicazione è che se si deve rilanciare il paese in un momento di forte incertezza in cui comunque famiglie imprese saranno prudenti nello spendere credo che ci vorrà qualcosa di più ci vorrà un provvedimento per esempio che rilanci gli investimenti pubblici investimenti per infrastrutture fra l'altro lascerebbero qualcosa alle generazioni future mentre i provvedimenti che sono in questo decreto pur necessario sono per la maggior parte quasi interamente deficit corrente quindi servirà secondo me un altro provvedimento il che aumenterà ulteriormente il deficit pubblico per quest'anno provvedimento che sia davvero di rilancio non so quando ma fra due tre mesi oppure nella seconda parte dell'anno bisogna fare investimenti pubblici c'è anche un altro elemento che deve essere considerato alcuni di questi provvedimenti nel decreto rilancio non si estendono fino alla fine dell'anno per esempio la cassa integrazione arriva fino ad agosto il sostegno per gli autonomi arriva fino alla fine di questo mese quindi è possibile che siano necessarie se la crisi sanitaria si prolunga è possibile che siano necessari altri altri interventi dico tutto questo per concludere che la previsione di un deficit pubblico quest'anno fatta dal governo mi sembra sia del 10,4 per cento del pil circa corso modo 170 miliardi secondo me serviranno più soldi serviranno più soldi anche perché la caduta del pil che il governo ha nel documento di economia finanza che mi sembra sia sull'8,3 per cento potremmo andare anche oltre questo livello quindi serviranno probabilmente più soldi di quanto è previsto nel DEF ci sono le risorse della banca centrale europea c'è il MES che non si vuole usare anche se continuo a pensare che sia un errore non usarlo speriamo anche che ci sia una che vadano bene le operazioni di raccolta direttamente dalla famiglia italiana domani lunedì 18 ci sono tre giorni di collocamento per il BTP Italia io ho deciso di comprare il BTP Italia credo che sia giusto in questo momento farlo speriamo che altri lo facciano e poi ci saranno altre sottoscrizioni più avanti immagino nel corso dell'anno riservato alle famiglie quindi è un problema che rimane ovviamente quello di trovare i finanziamenti per il deficit pubblico ancora molto attuale per ora però la cosa positiva è che i mercati finanziari tengono grazie all'intervento della Banca Centrale Europea grazie